ciao a tutti e bentrovati siamo nell'herba dint academy ed io sono manuale virgili master colorist di erba di oggi insieme scopriamo i vantaggi dell'effetto colore e cura di vegetal color cominciamo da quello che la struttura capillare e come si sviluppa questo effetto colore e cura di vegetal color questo perché come vedete nell'immagine il il nostro prodotto va a ricoprire e a sigillare esternamente il capello migliorandone l'aspetto e quindi anche la struttura sin dalla prima applicazione quindi non solo un rivestimento una guaina colorata intorno al capello che ne altera il suo effetto cromatico lo va a modificare ma allo stesso tempo nutre e ristruttura cute e capelli questo grazie ai principi attivi nutrienti e alle loro formulazioni aiurvediche presenti nei mix di vegetal color portando un miglioramento in termini di forza e nutrimento alla struttura capillare questo perché che quando le cuticole sono chiuse sane la luce anche impatta sul capello irradiandolo e donando luminosità facendolo sembrare bello corposo sano e allo stesso tempo in questa situazione di chiusura e quindi diciamo neutra del capello che è ben preservato dall'esterno e ben chiuso tutto quello che c'è all'interno anche l'umidità e non nutrimento vengono ben preservati all'interno e quindi il capello che continua a crescere sano nel tempo inoltre quando la cute è sana ha anche un'azione protettiva verso la pelle e quindi da agenti esterni quindi un capello sano a tutte queste caratteristiche che poi si possono veramente avvertire sia a livello ottico sia al tatto e vegge dal coro appunto a quest'azione riequilibrante che nel tempo in determinati casi ha anche un effetto normalizzante sulla cute mentre ovviamente apporta quello che è il suo beneficio principale sia il nutrire i capelli nutrirli e allo stesso tempo rivestendoli con questa pellicola naturale tutto intorno questo li farà farà sì che saranno lucidi forti e in alcuni casi sia anche un una riduzione dell'effetto crespo quindi possiamo dire che vegetable color è un vero e proprio trattamento di bellezza per i capelli la tipologia di di persone o comunque di capelli adatti a ricevere questo tipo di trattamento sono molteplici sicuramente l'effetto curativo diverge dal coro da da un ottimo risultato su tutti i capelli ma in primis su quelli che sono già di natura o magari per colpa di precedenti trattamenti aggressivi sono senza corpo e volume e quindi spesso si sporcano sembrano sempre opachi e già in questo caso dopo una semplice applicazione si potrà notare la differenza perché questa azione di colore ancora sarà veramente performante su questa tipologia di capelli inoltre come dicevamo anche prima a questo potere equilibrante soprattutto di andare a ridurre l'effetto crespo su capelli che hanno questa problematica e spesso e volentieri questo rivestire di questa pellicola il capello può essere di giovamento sicuramente per capelli che di base sono molto secchi o molto sottili e sfibrati perché perché andiamo a creare una nuova struttura o comunque a rivestirla e di conseguenza il capello sembrerà nuovo inoltre in alcuni casi ovviamente specifici perché non è una cosa che può essere classificata per tutte le tipologie di problematiche cutanee ma a volte abbiamo notato appunto che chi soffre di forfora o magari ha un po l'acuto il capello congestionato da tanti trattamenti invasivi la funzione riequilibrante di vegetal color va agire proprio su queste problematiche e andando un po a risolverle come magari la riduzione della della forfora sempre in merito all'effetto colore in cura e l'uso del neon tracassia power è veramente veramente utile e importante per tante tipologie di consumatrici perché perché come abbiamo detto è un è un effetto totalmente in colore non va ad alterare il colore esistente sui capelli ma va a lavorare principalmente sui benefici che da la cassia arricchita con l'aloe ossia quello di essere un vero e proprio trattamento ristrutturante naturale al cento per cento vediamo come nell'esempio un capello sfibrato da precedenti colorazioni anche magari da una forte esposizione a e prolungata disposizione al sole e si è abbastanza destrutturato quindi lo si vede sia nella sua texture ma anche nell'effetto colore e vediamo come invece i risultati dopo sono decisamente più più luminosi una struttura di capillare che sembra molto più sana e appunto la lista di benefici che si possono ovviamente ottenere dall'utilizzo del neon tracassia power sono sicuramente volume a capelli che di base sono sottili o appiattiti rinforzare i capelli sicuramente qualsiasi capello sano ha una luminosità veramente importante e quindi questo lo possiamo ottenere magari con con cassia power sicuramente rende i capelli morbidi e setosi perché appunto quella possibilità di combattere l'effetto crespo rende anche i capelli di questa setosità tende a curare anche le punte trattate con prodotti chimici o magari stressate con prodotti a casa con attrezzi a caldo come il phon e le piastre i capelli sottili oltre a prendere volume sicuramente si robustiscono in determinati casi è un ottimo prodotto per alleviare delle irritazioni del cuoio capelluto e sicuramente abbiamo riscontrato che ha un'azione regolare c'è sul sebo andando a ovviamente a lavorare sull'azione e la produzione di sebo da parte delle ghiandole cebraci e quindi anche ridurre la forfora adesso vediamo qualche effetto colore prima e dopo con le nostre nuanze di vegetal color vedete una ragazza sulla sinistra con una tonalità di capelli biondi naturali e delle lunghezze sfibrate da precedenti trattamenti e vedete come il risultato finale poi senza aver minimamente andato a intaccare il colore ok notiamo un incremento nella qualità sia visiva ma anche strutturale del capello stesso discorso per pure caramel qua comincia a diventare magari un vero effetto colore cura perché oltre all'effetto curativo come abbiamo visto nel caso precedente cominciamo a vedere anche delle alterazioni a livello cromatico quindi qua avevamo una ragazza con i capelli totalmente decolorati ruminati da trattamenti aggressivi e utilizzando un pure caramel sicuramente siamo andati a ottenere un capello più sano più robusto rispetto a quello che era dopo la decolorazione ma in più abbiamo apportato un'alterazione cromatica abbastanza evidente virando appunto su tonalità un po più calde come il caramello in questo caso invece abbiamo avuto un capello totalmente naturale un po opacizzato dal dal tempo dai trattamenti agenti esterni come poteva essere in questo caso e invece dopo un'applicazione tono su tono perché abbiamo utilizzato no chocolate su una tonalità già castana di suo ma vedete come la luminosità e si è incrementata in maniera esponenziale avendo poi come risultato dei capelli super luminosi sani e veramente tutto questo grazie a un trattamento totalmente naturale qui anche abbiamo avuto la stessa tipologia di esempio quindi capelli sfibrati opacizzati anche addirittura qualche capello bianco e con una semplice applicazione della tonità più simile ossia un moonlight power siamo andati a mascherare quei pochi capelli bianchi a donare nuova luminosità e vita al colore dei capelli e alla sua struttura e allo stesso tempo abbiamo anche intensificato il tono in maniera tale che sembri più leggermente più scuro ultima menzione riguardo l'effetto cura e colore di vegge dal colore è la tecnica dello scherazard perché spesso e volentieri è possibile utilizzare la polvere di vegge dal colore miscelata con un balsamo che sia ovviamente biologico anche questo per ottenere un effetto di colore cura tramite un trattamento un po più rapido rispetto alle applicazioni di vegge dal colore e quindi questo si fa semplicemente aggiungendo qualche cucchiaio di polvere della nuanza desiderata di vegge dal color al balsamo biologico e noi raccomandiamo ovviamente il balsamo moringa repair di erbatint quindi una volta miscelati e ottenuta una soluzione omogenea possiamo applicare su tutti i capelli andando a lasciare in posa per 15 20 minuti e i benefici sono ovviamente tutti gli aspetti nutrienti che normalmente da il balsamo moringa repair più ovviamente il la tonalizzazione dovuta alla polvere di legge dal color uniti insieme è veramente un modo per coccolarsi e avere un trattamento intensivo ristrutturante ma che allo stesso tempo rilascia ovviamente delle leggere riflessature l'ultima menzione per quanto riguarda il concetto di eco che c'è dietro il prodotto di vegge dal colore perché è stato concepito con grande attenzione alla sostenibilità non contiene nessun accessorio usa e getta e questo per evitare un uso superfluo di plastica o altri o da altri tool e le istruzioni inoltre sono stampate direttamente nell'interno del pack questo ovviamente riduce anche l'utilizzo di extra carta e oltre ad avere tutte le istruzioni per l'utilizzo del prodotto ci sono anche le istruzioni per un corretto riciclo di tutti i materiali questo ovviamente associato a quello che c'è esattamente all'interno del pack ossia tutte le otto le nuance contengono solo esclusivamente due sacchetti di polveri da 50 grammi che poi ovviamente verranno utilizzati nel quantitativo necessario miscelati semplicemente con dell'acqua calda questo perché perché tutto quello che è necessario per fare un'applicazione è reperibile a casa e quindi abbiamo voluto includere nel pack solo esclusivamente le polveri ottenute da da erbe tintorie e piante aiurbetiche bene io vi ringrazio e per oggi abbiamo finito e vi do appuntamento alla prossima formazione vi ricordo i nostri canali erbatint su youtube dove potrete seguire le playlist e ricevere notifiche su tutti i caricamenti dei nuovi video online ed inoltre le nostre pagine social erbatint italia su facebook e instagram dove oltre a essere aggiornati con contenuti immagini potrete sempre avere a disposizione il mio supporto per chiarimenti sul prodotto o soprattutto per un consiglio colore personalizzato basta scrivere in dare grazie e ciao alla prossima